Donatello Di Prinzio, da una possibile non partecipazione a questa tornazione elettorale, la ricordiamo sempre, alla vittoria. Un mese difficilissimo, ma adesso tanta serenità e tanta felicità. Eh sì, dopo quei giorni abbastanza duri, tristi anche, perché comunque era una competizione a cui ci tenevo e ci tenevamo tutti quanti insieme. Siamo riusciti con un grande lavoro di squadra, lavorando tutti i 22 giorni, penso che siano stati, in maniera intensa e interrotta in mezzo alla gente, con la nostra solita semplicità ma con molto concretezza. Penso che sia anche il lavoro svolto nei miei anni di attività politica e amministrativa nella mia città, in provincia, dove ho sempre cercato di fare il miglior modo possibile il mio ruolo, di svolgere il miglior modo possibile. Adesso, questo grande risultato, speriamo di poter essere all'altezza per amministrare la mia città. Sono quasi 400 voti di differenza, un margine notevole, perché comunque è stata una tornazione elettorale anche difficile, complicata. Sì, anche perché l'azione è stata molto difficile, perché nel mondo d'oggi giochiamo molto con i social, quindi il palcoscenico è diventato quello. Io, che sono un po' meno social degli altri, ho dovuto lavorare in più sulla piazza. Comunque, un divario abbastanza elevato, non ricordo nell'ultima votazione questo grande divario, l'altra volta erano 150-140 voti. La volta precedente, con la nostra vittoria, mi sembra 26 voti. Quindi, si vede che l'agenda ha voluto premiarmi, premiare tutta la squadra e credo che si aspetti anche molto da noi e cercheremo di non deludere sicuramente, perché a parte questi primi momenti o giorni che mi devo ancora riprendere, penso che ci sarà molto da lavorare. Io mi sono mai tirato indietro nel lavoro, ci rimboccheremo le maniche nel miglior modo possibile. Ecco, è già stato in municipio, ha salutato dei dipendenti, è iniziato ad andare a prendere coscienza di quello che sarà il lavoro dei prossimi giorni. No, sono andato solo a vedere cosa bisogna fare a livello proprio burocratico in questi momenti. Sono a prendere indicazioni. Ho salutato gli altri colleghi competitor, il sindaco uscente dal Pozzo, sono andato nella sede elettorale di Giornale di Crescenza, ma non c'era, c'erano i suoi candidati. Li ho voluti salutare, perché comunque in una competizione elettorale tutti si mettono in gioco e tutti penso che lo facciano con buoni propositi per la propria città. Sono andati a salutarli perché anche loro hanno lavorato in questi giorni e alcuni in questi anni e penso che tutti abbiano fatto il miglior modo possibile il loro lavoro, solo per questo.